Ti capita mai di finire in tensione, non finire, iniziare un respiro con la tensione? Cioè, devi prendere un respiro rapido e trovarti a fare una roba del genere. E visto che il lavoro tra la clavicola e il collo, le clavicole e il collo, diventa questa cosa qua. Ok, naturalmente questo ti predispone in maniera assolutamente scorretta a emettere il suono che devi emettere quando canti. Quindi che cosa fare? Naturalmente, bentornati sul mio canale, benvenuti se siete nuovi, sono Alessandra Cartocci e questo è il posto dove scoprire la vostra voce. Allora, la prima cosa da pensare è che il respiro non sia qualcosa di artificiale che io debba produrre, ma in realtà è un meccanismo estremamente naturale, ovviamente, che se io lascio accadere nel modo più neutro possibile, avviene in maniera meravigliosa. Quindi se io semplicemente lascio entrare l'aria, è come se l'aria entrasse proprio boom, facesse pluff dentro il mio corpo. È come se un qualcosa proprio scendesse. L'ho detto tante volte, immaginiamo che l'aria sia acqua e che semplicemente cada dentro una cosa, ok? Provate semplicemente ad aprire la bocca e lasciate che la bocca, in qualche modo, sia all'altezza del fondo delle costole. Quindi, che vuol dire? Proprio mi immagino che l'aria vada direttamente qua. Inspiro e lascio entrare l'aria. Eccola là, è entrata. Ok? Naturalmente lo sto facendo in maniera un po' rumorosa perché voi possiate percepire, però meno rumore c'è e meno tensione nella gola. Quindi, eccolo qua. È il suono vero proprio che non c'è dell'aria che entra. Provate a fare questa cosa perché questo è il massimo del riempimento possibile e mi predispongo già a tutto il movimento muscolare che mi serve per mandare fuori correttamente l'aria, ingaggiare l'attivazione delle corde vocali e lavorare sui risuonatori. E più è naturale questo e più l'inspirazione è un atto di rilassamento. È un atto quasi passivo, d'accordo? Lavorate su questa cosa, fatemi sapere come va, naturalmente come sempre, se siete pronti ad approfondire, che ve lo dico a fa, cantafinoallestelle.com per lezioni individuali, per corsi online, per qualsiasi cosa vi serva. Se avete commenti, domande e richieste, commenti. Scrivetelo qua sotto. Insomma, tutte quelle cose di YouTube che io non sono brava a fare. Ciao!